Si tratta di persone che o non conoscono la storia o la deformano a proprio piacimento su una propria volontà. Il periodo della resistenza per l'Italia è stato uno dei periodi più importanti della sua storia. I partigiani rappresentano il momento felice, il riscatto di un paese che aveva avuto la sciagura dell'8 settembre, che aveva avuto poi altri momenti edifici con il fascismo che aveva assunto veste ancora più estremiste di prima, erano quelli che avevano reagito e che avevano ridato un senso alla parola patria, all'Italia, combattendo per la libertà. Noi su quella battaglia che hanno fatto i partigiani in quegli anni abbiamo costruito la nuova Italia, la nuova libertà, la nuova democrazia. Allora approfittare di questi richiami eccetera vuol dire compiere anche uno sfreso della storia e anche del significato che deve avere per tutti invece il termine partigiani e il termine resistenza, cioè un momento fondamentale della storia e l'Italia sul quale si basa la nostra attuale libertà.